Buongiorno a tutti, io sono sempre Viltoroso88 e questa non è una puntata di non mui, non fate troppo caso ai capelli sconvolti, la faccio stanchissima perché sono appena tornato dall'università che io vado a Milano e avendo iniziato i corsi purtroppo posso fare i video solo di sera, infatti la luce è quello che è, mi sto anche abbrustolendo metà del volto, ma non importa. Allora, questo video serve per annunciare una cosa che ho aspettato a dire perché non era ancora stata ufficializzata, adesso che è stata reso ufficiale pubblica posso dirlo, che nelle puntate di Social King che andranno in onda su Rai 2 il 19 febbraio, il 20 febbraio, cioè sabato e domenica, quelli che arrivano, ci sarò anche io e farò parte della squadra Style Fantasy assieme al tizio qualunque e a Vincent Cosmos. Come avversari avremo Cesare Ranucci-Rachel, Gian Paolo Colletti e Sisterisver85, di questa cosa sono contentissimo perché sono un suo grandissimo fan, mi fanno morire i suoi video e sono veramente contento che ci sia anche lei. Quindi, per chi non sapesse che cosa è il Social King, è un quiz televisivo condotto da Elio Beshir e da Metis Di Meo, da Splendida Metis Di Meo aggiungerei, è appunto un quiz che tratta il mondo del web, del social network, è un programma molto interessante, creato a posto per i giovani, è appunto venendo alle 9 e 20 del mattino, sabato e domenica, su Rai 2. e per chi volesse guardarlo e pensasse, eh no, ma Cescola non posso, sappiate che tanto anche il professore sta a casa a guardare il Social King e non ci sarà lezione, no. Vabbè comunque, cazzo da parte, se volete guardarlo farebbe veramente molto piacere, nel corso della puntata di sabato, che andrà in onda in diretta, quindi alle 9 e 20 del mattino, si può votare il red della puntata, il Social King della puntata, dalla fanpage di Social King su Facebook, ci sono i vari profili dei concorrenti, si può mettere mi piace sul profilo del concorrente che volete votare, e quindi, eh, per l'appunto potete, eh, potete votare e verrà eletto il Social King della puntata, quindi metterò il link nella descrizione per votare, quindi, eh, spero di non avervi mai detto troppo, spero che vorrete seguire la puntata, noi ci vediamo al prossimo blog, a questo punto anche a Social King. Ciao a tutti!